Scusa, sì, a quanto pare la questione del genere è un po' più complicata di come l'abbiamo affrontata ieri, Pito. Puoi tornare nel mio ufficio così possiamo fare chiarezza, grazie, Pito. Qui, Micio, Micio! Dove vai, Micio? Sei un micio! Hai un sacco di follower per un novellino, novellino. In questa taggami se vuoi. Diffonderemo da... E tu chi saresti? Un mago? Vai! E tu chi saresti? Un fashion editor? E allora? L'italiano dice al volato... Se volevo solo delle tette, mi bastava una vaccona come te! Che cosa abbiamo qui? Tu sei quello che ha fatto notizia la notte scorsa! La polizia ha sempre bisogno dell'aiuto di cittadini impegnato. Penso che possiamo assegnare al nostro Detective Junior un caso speciale a cui lavorare. Ok, ascolta. C'è un tizio nuovo in città che riorganizza le famiglie criminali. È un gran figlio di puttana. Un pezzo grosso del crimine che vuole controllare tutto il traffico di droga in città. Lo abbiamo localizzato in questa posizione. Devi andare lì e neutralizzarlo. Tu fai strada. I miei ragazzi ti seguiranno. Se fai fuori il boss della droga, ti daremo questo distintivo di Detective Junior. Carino, eh? Forza, al lavoro! Buongiorno, eh? Ehi tu, vieni a giocare con noi più grandi! Oh, il piccolo di Quartapa! Vuoi un calendario delle ragazze del RISI? Ah, non entrerai mai qui, stupido! Oh, il piccolo di Quartapa! 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 Oh, è davvero questo aspetto! Oh, sono! Ehi, piccolo supereroe, sei in giro a salvare gatti? Se dovessi imbatterti in uno dei miei gatti con la sciarpa rosa, potresti riportarmelo? Non lo trovo da nessuna p***a Quelli delle medie stanno dando la caccia ai miei micetti Se vedi in giro i miei bambini pelosi, vieni da me, va bene, patato? Ok, ti avvicino al nascondito Cerca un ingresso, ma fai attenzione Forse è armato fino ai denti La mappa termica indica che il sospettato è sul retro della casa Dovresti vederlo Tu che cazzo sei? Che ci fai in casa mia? Carica, carica! Non so cosa credete di fare in casa mia Tieni duro! Oh! Qual è il problema? Sto solo difendendo il mio castello Rispondi al fuoco! Così impari a corrompere i giovani con la droga Santo cielo, tu sì che sei un supereroe Un violento degenerato in meno da gestire in città Torna ad aiutarci quando vuoi Ok, ti seguirò sui social per pietà Un buu Beh, ok Un buu Grazie novellino Ci vediamo online Grazie a tutti! Grazie a tutti! E dai, micetti del cazzo, dove siete? Chi vuole essere il primo? Scatinati! Continua, un giorno forse diventeremo amici. Sono pronto a succhiarvi tutto! No, così non suona benissimo. E' fatto, Mauro, scusami, devo vomitare. Può fungere. Prima il crocione li fa sanguinare, poi per moschito è ora di mangiare. Rimanda gli spuntini, Moschito. La tua storia li ha smerdati! Te lo ha massaggiato il tuo ragazzo? Ho diversi problemi. Ti tormenterò oggi, non c'è il gotecco. Prendete la medicina, babbocci! Siete messi davvero male! Mi fate perdere tempo! Sono pronto! Esa, pugno, ru! Au, spinti delle gradinate! Lascerò delle cicatrici! Moschito ha sete di sangue! Che schifo! Ti farà un male cane! Ti progiorno! Quegli artigli non tagliano più a fondo! Non male per dei piscialletto delle elementari! Gas! Ora ti metterai a piangere? Au! Au! Già, me l'aspettavo! E non è tutto non igienico! Tocca a me! Non me ne frega un cazzo! I tuoi pugni hanno causato tante belle emorragie, Super Craig! Possiamo fare una bella bevuta! Ma che schifo! Quelli delle medie non possono morire! Noi siamo immortali! Mi prendo un campione di sangue! E se hai immedesimato un po' troppo! Sangue fresco! Un altro nemico si inchina al procione e i suoi amici! Grande mossa del procione in arrivo! Sfonduto dal lungo bastone della giustizia! Beto me sembra un po' morto! Ora posso andare? Grazie! Rurito all'etale! E ti sta! Falculo! Alzati! Gli abbiamo sconfitti senza di te! Rimini! Gli abbiamo sconfitti senza di te! Diffondiamo disordine o entropia oggi? Questo mio ex amico che ora odio ha ancora il mio cazzo di portatile. Vallo a recuperare e digli che se non me lo ridà chiamo la polizia, cazzo! Si chiama Twick. Credo che lo troverai alla caffetteria dei suoi genitori. Dagli questo. Fatte ridere il mio portatile, cazzo! Buongiorno, benvenuto al caffè Twick. Che cosa ti posso offrire oggi? Scusa, faccio i selfie solo con i clienti. Grazie per il tuo aiuto, vigilante. Facci pubblicità la prossima volta che vai in tv. Scusa, sono preoccupata per Twick. Ti sembra star bene? Come vanno gli assaggi, figliolo? Non sento la differenza! Forza, assaggia! Dobbiamo creare una perfetta miscela del tramonto. Che cos'è? Ridammi il mio fottuto portatile! Oh, lavori per lui, eh? Beh, allora tornaci e digli che gli ridarò il portatile quando mi restituirà il mio porcellino d'India! L'abbiamo comprato insieme, ma striscia è mio! L'ho pagato e ho ancora lo scontrino! Credi che sia giusto che lui tenga striscia quando è stato lui a fare il cogliore? Adesso vaglielo a dire! Che ha detto Twick del portatile? Quel cazzo di porcellino d'India! Ma, vabbè, sai dove sta la gabbia di striscia? Vallo a prendere e dallo a quell'altro coglione! Quando lo dai a Twick, assicurati che sappia che quando abbandoni qualcuno non c'è più tu a fare le regole! Sono il più veloce della città! L'ho fatto! Io è grande! Ci si vede! Qualche bambinetto, tutto per me! Sì, proprio così! Torna da mammina! Ma guardati con tutto quello spazio sul tuo dispositivo! Di spazio sul tuoroon! Odio vedere Craig così triste Spero tanto che fa Spero tanto che Grazie a tutti. 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 Eccoti, bambinetto, bambinetto. Devi andare da qualche parte in fretta, Novellino. Lo facciamo o no? Ottimo lavoro, Novellino! Tieni! Quando lo dai a Twig, assicurate che sappia che quando abbandoni qualcuno non sei più tu a fare le regole. Buongiorno, benvenuto al caffè Twig. Che cosa ti posso offrire oggi? Ah, finalmente si è deciso a ragionare! Bene! Ecco il suo portatile! Oh, ciao! Ciao, sei il Novellino, giusto? Senti, mi rendo conto che ce la stai mettendo tutta per far riavvicinare mio figlio e suo amichetto. Beh, lo apprezzo molto. Avere un figlio gay è ottimo per gli affari. Credo che... Abbiamo solo bisogno di un po' di terapia relazionale. Potresti dare questo a Craig? Forse insieme possiamo aiutarli, eh? Dov'è? Terapia? Tu ecco, le faccia in terapia con lui! No, grazie! Degli che non vado in terapia con lui se non vieni tu! Mi serve il supporto! Buongiorno, benvenuto al caffè Twig. Che cosa ti posso offrire oggi? Ti piaceranno le nuove proposte? Torna quando vuoi! Saremo qui! Che cos'è? Terapia relazionale! Craig! Mi prendi per il culo! Sì, lo farò! Se viene anche tu! A quanto pare riesci a farlo ragionare! È fantastico da parte tua aiutare questi ragazzi! È fantastico da parte tua aiutare questi ragazzi! Ah! 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 Ahahahahha! Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Vedete il vigilante? Stai solo rimandando la sconfitta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, dove mai potrebbero essere i miei micetti? Puoi trovare i miei gattini? Non posso stare sui social se... Ma ciao, bocconcino. Facciamo un selfie? Oh, bucconcino. Oh, bucconcino. Oh, bucconcino. Un supereroe! Un supereroe! Oh, bucconcino. Oh, bucconcino. Andiamo! Oh, bucconcino. Oh, bucconcino. Cazzo, che schifo! Oh, bucconcino. Oh, bucconcino. Andiamo a fare shopping dopo la nostra vendetta. Qual è il problema, tesoro? Le ragazze ti spaventano. Gli intrusi saranno puniti. Oh, cavolo. Mi sento così bene a rincorrere quei maniaci. Bucconcino. Ora hai paura di noi? Sì. Vuoi un calendario delle ragazze del racing? Michio, Michio. Oh, eccoti, bambinetto, bambinetto. Che c'è? Ti sei cagato addosso? Che c'è? Grazie a tutti. Sei qui per rilassarti? Evita di spararmi merda adesso. Ti presenti vestito così, in uno strip club? No, 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 no. L'hai voluta tu! 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 Colpisce! L'hai voluta tu! 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 Ehi tu vieni a giocare con noi più grandi! L'hai voluta tu! Ok io? L'hai voluta tu! Grazie. Grazie. Ho delle foto di tette. Vuoi vederle? La trappola è piazzata! Grazie. Grazie a tutti. Ho un gran sapere qui, siedi pure. Ho avuto un feedback dal preside per la nostra discussione sul sesso, cioè sul genere. Non era molto precisa. Lui mi ha fornito delle linee guida su come aiutarti a identificare il tuo genere, Pito. Il genere che ti hanno assegnato alla nascita è quello con cui ti identifichi, Pito. Oh, molto bene, quindi come sai significa che sei cisgender. Ok, bene. Il prossimo argomento che voglio affrontare è la tua sessualità. Molti pensano che genere e sessualità siano la stessa cosa. No, non è così. Pito. Allora, come descriveresti il sesso del tipo di persone verso le quali provi attrazione sessuale? Ok, allora questo fa di te un etenosessuale, Pito. Tecnicamente abbiamo tutto il giorno, ma la prima è meglio. Sono contento di aver parlato con te. Fa attenzione, Pito. Ci sono persone là fuori che non ti accetteranno per quello che sei e dovrei averci a che fare. Dunque, torna a trovarmi. I miei sono stati a una festa fino alle tre ieri notte. Che cazzo! Ehi, è quel bambino! Sì, sono cisgender! E anche enterosessuale! Non mi piacciono quelli come te da queste parti! Diamo il benvenuto a questa cosa qui in città! Non mi piacciono quelli come te da queste parti! Sì, altri figati come quella! Non li voglio mordere! E se mi ubriaco con il loro sangue? Non essere spaventato! Sarebbe un assaggio del tuo futuro! Carica sfilente! Fa tutto ridere finché non sanguini dagli occhi e dal buco del culo! Ad avere un ottimo presentimento! Non perdere tempo, Procione! Rieccomi di nuovo! Oh, fantastico! Dovrei ricominciare! Ok, ci vediamo! Oh, ti ripeto bene! La mia bocca a tubo è spalaccata dallo stupore! Tu sei mediasimato un po' troppo! Super Craig, a rapporto! Basta con le strancette! Quindi mi ridaranno l'assegno di invalidità? Bene! Rovinerò il sistema immunitario a qualcuno! Oh, soddisfacente! Sai che non devi bere davvero quello schifo? Tu prendi sul serio pugni i tuoi nemici, Super Craig? Oh, sì! E di non essere ipocrita! Yeah! Vorrei metterlo sotto pressione! America, amala o vai a farti fottere, socialista! Deve far male, quindi... Missione compiuta! Ahia, per te, amico! Ok, partiamo! Mega pugno! Il bis è tutto mio! Ehi, dati una caldotta! Ah, chi posso infettare? Morso di senso! Sta andando tutto secondo i miei piani! Fatevi da parte, amici del progione! Sono tornato! Fate sfatto al progione! Con il pugno si risolve tutto! Grazie a tutti i miei piani!